Ogni anno 30.000 ettari di terreno vengono cementificati e sottratti responsabilmente alla natura, il 5% del territorio nazionale. Un dato allarmante emerso davanti ai lavori del Convenio Nazionale sul tema custodi del suolo e dissesto idrogeologico organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Messina a pochi giorni dal secondo anniversario della disastrosa luvione di Saponara. Focalizzare il rapporto tra il ruolo dell'agricoltura e degli agricoltori nel prevenire i fenomeni del dissesto avviando un serio confronto istituzionale l'obiettivo prefissato dalla CEA messinese che chiede ai comuni di proibire la cementificazione selvaggia salvaguardando il territorio attraverso azioni congiunte. L'abbandono del suolo e la cementificazione scelerata sono da ritenersi le cause principali del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali. Novità sul litero legislativo sono state annunciate dal direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole Giuseppe Cacopardi che ha parlato della presentazione di un disegno di legge per porre fine alla cementificazione che ha ricevuto proprio in questi giorni il via libera dalla conferenza Stato-Regioni per passare poi al parere delle commissioni parlamentari. Anna Maria Martuccelli, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche, ha sottolineato che i consorsi di bonifica possono svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione mentre Maurizio Lanfranchi, docente dell'Università di Messina, ha chiesto di mettere un freno agli interventi a macchie di leopardo e creare condizioni incentivanti per motivare l'imprenditore agricolo a rimanere sul territorio e non abbandonarlo.